Vi presento la prossima plusvalenza dello Sturm Graz Dopo Hoylund, acquistato per 2 milioni dal Copenhagen e rivenduto all'Atalanta per 20 Edemega, acquistato per poco più di 3 milioni e rivenduto allo Strasburgo per 13 Ecco Simon Vlodarczyk, attaccante polacco di 20 anni Acquistato in questa sessione di mercato per poco più di 2 milioni dal Gornik di scuola Lega Varsavia Lo scorso anno per lui 30 presenze, spesso da subentrato, 9 gol e un assist Adesso in Austria, in 3 presenze, 2 di campionato e 1 di Coppa Austriaca, 5 gol e un assist Ha già aumentato il suo valore di mercato È una punta centrale molto fisica, 1,90 m d'altezza ma snella, circa 75 kg Esteticamente nelle movenze mi ricorda tantissimo Dzeko Ma il paragone non regge quando deve andare incontro a prendere palla e gestirla al meglio Stupisce comunque per i suoi tempi di inserimento e per il suo essere letale in area di rigore Per gli appassionati della carriera allenatore, Simon Vlodarczyk parte con 19 anni, 62 di overall, 74 di potenziale Il prossimo anno però riceverà un upgrade, ne sono certo